Ciao a tutti ragazzi, posto lì. Ragazzi, come promesso nel video precedente, oggi vi mostrerò come convertire i vari file audio, video, immagini in vari formati, usando un semplicissimo programma gratuito chiamato Format Factory. Questo programma ci consente anche di unire i file, ad esempio i file video di Fraps, come sapete vengono divisi in più parti mentre registriamo, con questo programma potremmo non solo convertirli ma anche unirli. Mentre vi farò vedere il programma tra poco sul desktop, vi spiegherò anche le principali differenze tra i vari formati e codec senza entrare troppo nello specifico. A tra poco! Bene ragazzi, eccoci sul desktop. Allora, la prima cosa da fare è scaricare il programma. Apriamo il browser, scriviamo Format Factory, primo link, in alto download, in alto a destra download. Allora, facciamo salva sul desktop, qui chiudiamo. Allora ragazzi, nel frattempo che scarica, approfitto per dirvi un paio di cose. Allora, quando finirà di scaricare vi farò vedere come si installa, vi farò vedere le configurazioni e vi farò vedere i vari formati, le differenze tra vari formati in maniera non approfondita, in maniera molto molto semplice e vi farò vedere per i video, vi farò vedere il formato che io uso con il codec che io uso e vi farò vedere la differenza con questo file. Questo file qui in alto, chiamato prova video, allora, è 146 MB. Io vi farò vedere come si vede il video e vi farò vedere una volta convertito, qual è la qualità e qual è la dimensione del file una volta convertito con il codec H.264, che è il codec che io uso. Allora, mancano 35 secondi circa per finire di scaricare. Ci vediamo quando il download è finito. Bene, ragazzi, allora, 5 secondi. Ecco qua, il download è finito. Perfetto. Allora, estrai qui. Eccolo qui. Questo non ci serve più. Lo installiamo. Installa. Ecco qua, finito. Aspettiamo qualche altro secondo. Allora, installa. Allora, assolutamente no. facciamo avanti. Run format factory lo togliamo e lasciamo install inside codex. Facciamo finish. ecco qua, ragazzi, il programma è installato. Andiamo ad aprirlo. Allora, cancelliamo il file di installazione che non ci serve. Format factory. Eccolo qua. Allora, ragazzi, questa è l'interfaccia di format factory. Allora, la prima cosa da fare. Qui in basso, use multitreads. Ragazzi, se avete una CPU multicore come la mia, spuntatelo. Un'altra cosa da fare, le opzioni. Allora, la cartella di destinazione, che è anche l'unica modifica che faremo. Io metto il desktop. Tutte queste altre impostazioni non le andremo a toccare. Andiamo a applica. Ok. Allora, come vedete, possiamo convertire, ragazzi, qualsiasi cosa. I video. Si può anche scorrere. Vedete? Ce ne sono davvero un'infinità. Allora, ritorniamo sopra. Audio. Immagine. Dispositivo CD. No. E avanzate. Spieghiamo un pochettino questi menu. Andiamo in ordine dal basso verso l'alto, visto che il video è quello che ci interessa di più. Allora, adattatore video e adattatore audio. Allora, quando noi registriamo, ad esempio, con Fraps, capita spesso di trovarsi con più filmati, con più file, dopo si ha la necessità di riunirli. Con adattatore video possiamo farlo. Basterà cliccare qui, portiamo uno a uno i vari file o li selezioniamo tutti quanti insieme, li portiamo qua dentro, selezioniamo come li vogliamo convertire, facciamo ok, facciamo via, e il programma li riunirà in un unico file. Stessa cosa all'adattatore audio. Il mux invece, flusso video, flusso audio, metto un video, metto poi magari una canzone o un audio o quello che volete, audio, e una volta dato il via, Format Factory li riunirà, quindi avremo un solo file audio e video. Questo è buono per i montaggi, ad esempio se volete fare un commento. Ok, per l'avanzata è tutto. Dispositivi, ROM, CD, DVD, ISO. Allora, DVD verso formato video. Un DVD lo trasformeremo in un formato, idem il CD audio, da DVD CD a ISO o CSO. Un DVD di installazione, di un programma, di giochi, quello che volete, chiaramente acquistato legalmente, lo faremo diventare un ISO o un CSO. ISO e CSO sono la stessa cosa. Il CSO è la versione compressa della ISO. E poi ISO e CSO, questo qua è per convertire in ISO, vedete le doppie frecce, ISO e CSO da CSO a ISO. Ripeto, CSO è la versione compressa delle ISO. Passiamo alle immagini. Allora, i due formati di immagine più famosi che sono quelli di cui parlerò sono GPG e PNG. Allora, le differenze. Il GPG è un formato, diciamo così, per il web, per l'online. Il PNG invece serve per conservare per sé i file. Spieghiamo perché. Allora, il GPG è un formato lossy che consente una piccola perdita di qualità del file. Questo è buono per le pagine web. Perché? Il PNG, essendo un formato lossless, non permette perdita di qualità, quindi il file finale sarà molto più grande. Quindi immaginate una pagina web con 10-15 immagini. Il PNG diventerà pesantissimo, risulterebbe essere una pagina pesantissima. Mentre con il GPG possiamo avere un'ottima qualità, però con un peso molto molto minore. Allora, se noi clicchiamo, ecco qua, clicco. Impostazione di destinazione, posso scegliere il limite di dimensione, altezza, larghezza, se inserire un'etichetta. L'etichetta, vedete, poi possiamo scrivere noi quello che vogliamo, possiamo scegliere il colore, il carattere, vedete? Possiamo scrivere quello che vogliamo. Passiamo ai file audio. Allora, i file audio. MP3, FLAC, AC, WMA, M4A. Allora, quello che conosciamo tutti quanti, l'MP3, uno dei formati audio, se non il più famoso in assoluto. Ha un formato lossi. Lo conosciamo tutti, per distribuzione online, i classici CD MP3 dove vengono salvate tantissime canzoni, non abbiamo nulla da dire. WMA è un formato che usa Windows, il FLAC è un formato lossless e, a differenza degli altri formati lossless, permette un 30-40% in più di compressione. Immaginiamo, abbiamo una canzone in alta qualità, ad esempio 5 minuti facciamo 100 MB, per esempio. Col FLAC possiamo avere la stessa qualità, essendo lossless, però con il 30-40% di spazio occupato in meno. Quindi verrà 60-70 MB, il che è ottimo per conservare più canzoni ad alta qualità. Poi abbiamo l'AC, che è quello che uso io nei video, e l'M4A. Fondamentalmente l'AC e l'M4A sono la stessa identica cosa. L'M4A è il formato, l'AC è il codec che c'è nell'M4A. Allora perché vi starete domandando esiste qui come formato? È semplice. L'AC ha anche un formato chiamato appunto AC. Però si preferisce usare l'M4A. Perché? L'AC non ha le tag e non è riconosciuto da molti lettori. Cosa sono i tag? I tag sono ad esempio l'artista e il titolo. Quando comprate un brano online all'interno ci saranno già scritti artista, titolo, album, anno, genere, tutte queste cose qui. Nell'AC queste cose non ci sono. Quindi si preferisce l'M4A, che è anche molto più compatibile. Passiamo adesso ai video, che è la parte che più ci interessa, che più ci sta a cuore diciamo. Allora la prima cosa da notare è questa qua. Tutti verso dispositivo portatile. Se noi clicchiamo, come vedete, abbiamo una miriade di dispositivi portatili e non. Sono dei set predefiniti per convertire magari un video in uno di questi formati. Ad esempio, vedete qui Sony, ecco qua, PSP, le varie risoluzioni, PlayStation 3, Sony Xperia, vedete? Apple, vedete per l'iPhone, per l'iPad, vedete per l'iPod, dove, eccolo qua, Microsoft, vedete per lo Zoom, per l'Xbox 360. Sono dei set che convertono già al giusto bitrate, alla giusta dimensione e col giusto codec, sia audio sia video, i nostri filmati. È molto molto comodo se non vogliamo perdere noi tempo a configurare e a fare delle prove. Allora, usciamo da qua. Adesso parliamo dei codec, scusatemi, non dei codec, dei formati più conosciuti. Allora, i formati più conosciuti sono senza dubbio l'AVI di Microsoft e l'MP4 di Apple. Cosa c'è da dire di questi due formati? Sono sostanzialmente simili, solo che l'MP4 ha una qualità leggermente maggiore e ha delle funzionalità avanzate che l'AVI non ha. Io però vi consiglio sempre di usare l'MP4 anche perché è un formato più nuovo rispetto all'AVI. Allora, andiamo subito a vedere e a fare anche le prove con il video che ho registrato di prova. Allora, apriamo, importiamo, impostazioni destinazione, eccolo qua, ABC H.264. Questo qua è il codec che io uso. Possiamo anche scegliere il flusso audio, in questo caso qui è solo AAC. Rispetto all'MP3 occupa uno spazio minore e ha una qualità maggiore, quindi è ottimo anche per questo. Qui ovviamente poi possiamo scegliere anche il bitrate, il campionamento, ma per i video sul web potete lasciare tranquillamente così, non c'è alcun problema. Possiamo aggiungere i sottotitoli, possiamo aggiungere un watermark. Il watermark sarebbe un marchio applicato sul video, un marchio in trasparenza per fare in modo che il video non possa essere copiato o se qualcuno lo copia si vedrà sempre sullo sfondo il nostro marchio. E possiamo, ecco qua in avanzate, scusate che scendo, possiamo anche capovolgere il video se ne avessimo la necessità. Allora, noi diamo qui OK. Diamo OK. Allora ragazzi, facciamo, vai, così inizierà la conversione. Suppongo ci voglia poco, perché è un file comunque solo di 140 MB. Sì, infatti già siamo al 22%, quindi 45, OK. Ecco qua ragazzi, ha convertito. Adesso, prima di farvi vedere lo spazio occupato dal file convertito, voglio farvi vedere la qualità. Allora, questo file qui è registrato con Fraps. Attivo la riproduzione perché è molto molto breve. Allora ragazzi, soffermatevi a vedere le lettere. Queste qua piccole e queste qua grandi. Cercate di vedere le curve, cercate di vedere la qualità, il dettaglio. Come vedete sono perfette. È un file registrato con Fraps, quindi alla massima qualità possibile. E il file pesa 146 MB. Perfetto. Adesso andiamo a vedere il file risultato dalla conversione. Allora, eccolo qua. Ragazzi, è identico. Non è cambiato assolutamente nulla. Come vedete le lettere sono ugualmente di qualità, c'è sempre la stessa qualità. Ragazzi, se vedete questo flash, questo blocco ogni tanto del video, perché vedete qui ho attivato la ripetizione perché il video dura veramente pochi secondi. Allora, come vedete la qualità è eccelsa. Io esco. Allora ragazzi, ve lo faccio rivedere. 146 MB. Questo qua quanto potrebbe essere? 10 MB, 20 MB, 30 MB? Sarebbe già un ottimo guadagno. No, ragazzi, questo file è 200K. E il bello, ragazzi, è che se andiamo nei dettagli, il video originale, 1920x1080, ragazzi, quindi è full HD. Anche il video convertito sarà in full HD. Ovviamente è solo un video di 4 secondi. Un video di 10 minuti che viene 8 GB convertito. Non diventerà 2-3 MB, ma diventerà chiaramente un centinaio di MB. Però ragazzi, avete visto? La qualità rimane davvero è eccelsa e ai massimi livelli, ragazzi. Pensate, l'H.264 viene usato, ce n'è una variante per i Blu-ray. Quindi veramente, ragazzi, è ai massimi livelli. Come avete visto il video ve lo faccio rivedere. Allora, eccolo qua. Prova video. Ragazzi, eccola qua la qualità. Esco. Eccolo qua, ragazzi. Ragazzi, è identico. Cioè, la qualità è rimasta identica. È perfetto il video. Come vedete c'è un guadagno di spazio esponenziale. Ragazzi, questo è il codec, il formato LMP4. Questo è il codec che io uso per convertire i miei video in FRAPS. Il video, già l'ho detto, il video che ho fatto precedente, quello su FRAPS, è risultato circa 8GB. Convertito, è risultato essere solo 113MB. Ragazzi, davvero... 8GB sono tantissimi. Ragazzi, a niente, 100MB non ci vuole nulla a caricarli su web. Perché alla fine lo scopo del video è questo. Trovare un codec giusto per caricare i video su YouTube. Ragazzi, per quanto riguarda la conversione dei file, è tutto. Spero di esservi stato utile. Ci becciamo al prossimo video. Scusate, un'ultima cosa. Troverete ovviamente il link per scaricare il programma anche nella descrizione del video. Ci becciamo al prossimo video, ragazzi. Bye bye. Ciao.